Primo appuntamento per la domenica in cabaret qui al Palco per la stagione invernale e siamo in compagnia delle TAP del TAP. Ma chi sono le TAP del TAP? Due giovani ragazze messinesi, amanti del teatro, della comicità e che aspirano comunque a fare questo lavoro. E tu soprattutto ti chiami Gracie, giusto? Sì, sì, mi chiamo Gracie. Io sono Gracie. Ho ricordato il nome. Sì, sì. E tu sei Jessica? Sì, sì, sono proprio la famosissima Jessica. Bene, stasera saranno degli elementi disturbanti della serata, vero Salvo? Sì, è una nuova idea. Il laboratorio del cabaret con la domenica in cabaret in modo tale che possiamo avviare a chi realmente ancora non conosce le TAP del TAP ma successivamente anche altri comici emergenti sulla scia dei comici che già hanno calcato i palcoscenichi più importanti. Quindi le TAP del TAP saranno una sorpresa stasera con i falsi d'autore. Bene, allora mi raccomando, seguiteci e divertiamoci, anche perché loro già hanno fatto una passerella d'insieme, è importante, così giovani, quindi già si sono fatte conoscere. Bene, grazie, buon divertimento. Ciao. 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 Ciao.